no look ci siamo colpiti in contemporanea non m'ha contato l'ita e avevamo fatto trade che è successo si è bloccato tutto attendi configurazione sessioni in corso vabbè tanto ero morto sta connettività della mutua potevano fare il gioco a host e vaffanculo no costava tanto sì ma è host dove sono tutti l'host non uno solo che cazzo sono tornato in vita oddio ero morto e mi ha contato la kill oddio fantastico